Bella regà, andiamo a tagliare un po' dei gole pure oggi Che è sta cosa, che è stata a mannare, che becillo Che è? Che è il Gesù Che è successo? Oh, regà, il telefono, regà, il telefono No, no, perché Oh, perché lui non ha il telefono acceso, capito? Qua roba, capito? Mamma, mamma, capito, subito come sgamarlo Sì, sì Messaggino Ha levato la connessione al telefono, capito? Ha levato È un po' deficiente Mamma mia La coppia cozzata, questa deve fare questo Signori, mi prendo Bersegesis Gli ho messo pure il PK a mezzo Però voglio Non voglio io quella Per dinosauro in testa Attenzione, finalmente Si vede una Varchiria in campo Anche se la gioca male Comunque sia rispetto Ma non sai di quello, Simo? Eh, no, io ancora Perché c'è una Varchiria? Sì Che lì è lui Che ne so Ma è scivede Ma è scivede Ma è di essere demente Però Finalmente mi do l'osso Eccole, va Li vogliamo esplodere questi, porco il ferro Esplodere Che sta a fare la cacca? Si, però non mi sento aggressivi, capito? Ok, sto contro con voi Ma ora lo spiego subito Regà Questo sta tipo fermo Pure il mio sta fermo No, non è svegliato Non siamo Regà, si è tipo svegliato Tutto è il mio, pure il mio Tutto è entrato Oh, si è svegliato eppure è bene Nooo Sono morto da coglione, regà Buoni, questo mi ammassa, regà Non sto un attimo concentrato E andiamo, no, sta a dormire, ragazzi Oh, bella, dischè Cazzo voi Ma che cazzo voi Bravo, giù Bella, regà 1 a 0 palla al centro 1 a 0 palla al centro Con la bocca in sangue Perfoglio mi ha fatto una raddocchia, cazzo Ma te la rendetta Ma mi ha fatto prendere un gruppo Si è sbagliata Un altro conquistatore Che palle, cazzo Porfoglio, questa l'ho piata Porfoglio, pure questa l'ho piata E ora mi sto a cazzare Ok, cazzo, cazzo Tutte le scarse Ragazzi, ragazze Come stavamo messi? È rimasto solo uno E ho appena preso Sto arrivando con la gherta, ragazzi Oh, ma che bello Lo lasciamo o no? Come hanno fatto loro, infatti A dormire, grazie Quanta ruzza Oh, finalmente Oh, porco due Il conquistatore Mi ha rotto il cazzo Oh, gli mettiamo la trappolina Attenzione Abbatta a dormire Oh, la rega Che c'è? Che problema c'è? Dimmi Io ho risparmiato la vita per giocare Eppure lui Ma me l'ha risparmiata un'altra volta Però stavolta Faccio Un stronzo E vai A due Chi è questo col condottiero? Stai fermo Sarà lui Guarda che stupido Chi era? Sono io, coglioni Ma che stupido Perché faccio spensacuardia? Perché che è stata a fare? Ma non lo so Luca è stato un po' stupido Guarda, guarda Gli sto a piattuti E perché che gli hai fatto? Cioè gli facevo in spensacuardia Lui che faceva I miei entravano La rega bassa Sono scarsi Su A dormire Grazie Dai, primo detto Ma ci è andato Non doveva spingere Lui lo rigrabbava E si faceva fare grazie Grappins Il grabbins Se faceva E il grabbins Dai, il primo detto Ma ci è andato Questo lo mettiamo Ropio in repertorio Ragazzi E a dormire E andava Bella torta Detto bravo E niente ragazzi Facciamo Il secondo video Dove andiamo a far vedere Un altro detto Metis In buona La prima Dove abbiamo messo Già un detto Metis Ma ne mettiamo un altro Speriamo di morire Solo per andare a vedere Come gioca Ecstasy Con la Varchivia A questo punto Se Lucchetto Andava a zrummelare I coglioni Al povero Ecstasy Ecstasy Non capiva E diceva Chi sei tu? Chi sei tu? Chi sei tu? Io ho capito Che sono Ma chi è C'era Poi ha capito Che in squadra C'era un condottiero Solo E ha capito Che era Luca Perché la lobby Già se l'era scordata Allora Allora Bowson A-A-D-V-Arc Ma chi so Mamma mia Mamma mia Ecco tu qua Ma ne vedi quanto siamo Berbuti e baffuti Nesta Il secondo PG di Exasy Diciamo che abbiamo Trovato Dei Anzi Mettiamo dei puntini Su lei Su sta cosa Se trovate gente Al di là Che hanno il prestigio Basso Non vuol dire Che sono Scarsi Perché Perché io sto A notorietà 20 E trovo gente Con la notorietà A livello mio Ok Giusto Ecstasy Quindi Quando dite Io sto al 20 E ho trovato Quelli all'1 Vuol dire Che anche quelli C'hanno Notorietà alta Quindi imparate Non di cazzate Sui match Mekins Adesso Fate meglio Allora Se io non gioco Mentre parlo Più che altro E' un po' Complicato Però Ci proviamo Ci proviamo A parlare E a giocare bene E ci accasca Oh Allora Come stai Romper cazzo Lo dico Molto semplice Oh oh C'è Raga sono morto Sono morto Come un coglione Con questo cazzo Di conquistatore Se parlo Moro C'è cazzo Da fa Raga qua E ci stanno E gli stacca la capoccia I perfieri Lo stanno Sto a guardar Ciccione che combatte Su C Vai a dare una mano Che è in pubblico Anzi Nessuno sta Giocavo Sera con onore No no Senza onore Perché se stanno Aiutare Merde Va su C Su C Ho capito Questo stanno Solo Che problema C'è Non mi seguo Raga Su C C Questo Fermo 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 Oh Te ribellavo Quando faccio Stare Guardia Brause E tu Burre No Oh no Sono morto Bella Lughe Finita 1-0 Palla al centro Facce un esultanza Degnati Un condottiero Sta per terra E zitto Secondo Un berserker Ma chi ti manda Babbo Natale C'è Regà Berserker L'ho preso Ho lanciato Tutto In due nanosecondi Andato Mentre parlavo Proprio Già stavate sotto E adesso Vi vengo ad aiutare Perché loro Hanno fatto Le merde Gli facciamo capire Cosa vuol dire Ok Stavate Sotto Oppure Simone C'ha bisogno D'aiuto Andate Merda Come scappa Chi è rimasto Regà Pinga Pingate Pingate La scappa La scappa Ma potrebbe restare Quello là sotto Asimo Che so io Ecco la Ma non tomolo Mentre Trappo Zitto Tranquillo Siamo tutti qua Per cento No Sì Sì Buttate sotto E' volato come in piggione Ma non lo vedi E E E E E Bravi 2-0 Wallar 100 Riecco il condone Il berserker Ma Oh Ma che sta fa Porco Ho due Regame entrata Ammazzato Porco Due boni Porco Due Parco Uuuuh Sono morto con berserker Regame sto uncazzato Posso rianimare? Sì No Non me vuoi rianimare Ammazzalo Che è una pippa Per cazzo Succede anche morire Quando si cazzeggia Per colpa di Luca Portalo qua sotto Simo Simo Paragliela Fa tutte le mosse a casaccio Fallo via di sotto Simo No fallo giù Vabbè dai Che mongolo sui che mongoloi Guarda se è debilente qua Simo ti devi levata a cazzo No da me ci penso a Simo Ma adesso Ho ancora ste mosse ne va No da capito che finire va da cazzo ti faccio ca i porti e vincono anche la seconda signori anche che il cimitero è andato a dormire molto presto ci ha pensato il Nimmerock mentre Exa si prendeva pisellate sui denti e anche questa partita la concludiamo qui Simone D'Ametico mi pare di persorcio quello la che si metteva i guanti me lo ricordo che si metteva i guanti prepara gli app no regà volevo fare video e non ci sono i bot attenzione quindi si può registrare tu sei un bot allora sapi sto facciamo un test e chi manca ma chi manca scusate un culo cazzo parla callo un culo callo o un culo callo canza un callo pello vedi chi si distingue dal gruppo Necropolis un paio perché Luca c'ha la X sopra la microfonos perché Luca sta parlando cosi che cosa si c'ha il microfono rosso ma che stai? dove? ma che stai? mi senti? io si ma parlo del suo perché l'hai disattivato il peso? Miserum Fabio ma l'ho disattivato io mamma mia è deficiente è stupido in culo mamma mia nice matchmaking bull is it nice beer dato che fanno i spiritosi ready to dead attenzione ragazzi due anni due anni in Inghilterra e va bene ho sbagliato oh 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 buoni che è messo a concentra' ci ha cascato ci ha cascato ci ha cascato anche questo è capitato ciao mamma mia regà il primo con me sta a dormire regà concentrazione il primo con me sta a dormire regà mi serve una mano venga ah ti arriva a riuscire sento un giri 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 vita oh ce la giocao d'onore regà fermi fermi mi serve si gioca d'onore se un'ora sì sì se non fanno i stronzi loro certo ma è stato detto a me ma è stato un po' eh ma sto senza stabile ok che palle mi sono fatto un po' prende dalla rosa guardi che fighe guardi che fighe è con la cosi in gioco oh beh questo è aggressivo va oh oh mo che cazzo sta succedendo oh dai mi sono fatto la mezza vita oh io me la buttate sotto ma porco 2 guarda non vale mo io sto da una cittata in bocca e vabbè dai regà porco 2 ma che è dai regge che merda dov'ha ah ah amico mio ti spiego una cosa cecino bello si è cascato ho giocato un razziatore rank 10 l'ulta la mattina ma l'ho ammazzati perfetto è la prima di andare capito sto razziatore se pensava che mi faceva finta ma qual'è il problema oh ci sarà perchè il coglione fa qualcosa che non va mamma mia e io sto giocando un po' a marino contro ma è simone che è un coglione che ci sta a fare la gara vero è un dicappato come sa è perchè è morto eccolo eccolo che ci casca ho tutte le scatte ok questo è andato regà non mi posso muovere se no vorreste questo è ammazzato è capitato mannaggia a dio della piscina che è troppo veloce neanche ma non neanche d'attacco la caga sotto ma di cazzo ma questa è rotta ma questa è rotta ma questa è rotta ma questa è rotta ok devo finta dove state pingate io non mi muovo da qua ah ma è giusto mi scordo che non è un brava la puttana mi sei cascata zocco stai a vedesimo? stanno tutti occupati dove stanno? dove stanno? non fate due contro uno porco due giocate bene è la mia è la mia è la mia ma andate ma che ti vuoi te fa? è la mia arrivo Luca oh no vabbè faccio vinta e non vi so niente ah no forse te riesco la sede dice c'è no ma è vero sto deficiente guarda sto coglione efficiente lo sai chi so io coglione io so il re portalo a sinistra niente Simone se sta affatto qualcuno ringraziata appola sta scappato sto deficiente di merda sono morto sono morto eh ho visto l'azzo sta qua sto adesso ci vado io lasciamo a me lasciamo a me no vaffanculo che sto io vabbè io lo buttai giù che sto vabbè buttaggiù da tutti ci buttai io a dormire grazie vabbè 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 non c'è nessuno non mi ricordo basta che prendi il billet ah ma ce l'ho io ma che me ne prendo la visione ok è un ottimo onore sì sì con onore ma che cazzo chi è ce l'ho fatta ammazzato perché attenzione è sabbio e sabbio scello tu è la cosa fa lì lo ti ho fatto ragazzi 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 mancata nooo a coglioni a dormire grazie quindi fai chiede ho fatto pure MVP sopra il coglione di sabbio come la commenti questa partita simone e Luca come la commenti questa partita è molto da migliorare imbarazzato bravo va bene ragazzuoli questo video lo possiamo anche chiudere qua abbiamo portato tre buona la prima con Deathmash spero che questo video vi sia piaciuto se così fosse metti un bel mi piace lascia un commento qui sotto iscriviti al canale tu tessina di cazzo se ancora non l'hai fatto ma soprattutto ragazzi per continuare a ingrandire il canale questi video continuate a condividerli ci vediamo molto presto con un prossimo video bella ragazzuoli andate in pace e oggi apriremo il nostro nuovo video dove andiamo a spiegare come funziona il razziatore grazie alle gesta di ecstasy dai spiega il razziatore allora il razziatore praticamente come funziona in che cosa consiste se va a razziare è quello che razzia quello che razzia quello che razzia da che eravamo primi all'alfabeto a delta gamma siamo sempre stati primi a prima del primo round andiamo vinto e mo se ritrovamo a perdere il secondo round eppure il terzo perché fidate che se continuiamo così i biglietti ma sai come è stato mai sapere quel po' Fabio si tu lo sai vero vero tu lo sai vero vero caricherò video mentre giocherò ho pensà non Grazie.